Siamo collegati con il nostro inviato che abbiamo pagato un sacco di soldi per il viaggio e tutto quanto quindi anche per la cina il pranzo dacci dacci conto che cosa che cosa barcelona bayern monaco ma si malissimo napoli micro tanto io sto per calcio pazzo stiamo facendo io sto pagato da te ma se tu che devi parlare io sto facendo qua per calcio pazzo e siviglia fiorentina ecco questi signori si sono messi qui i rappresentanti delle due squadre eccesso andiamo sul sito della uefa qui e dice mazza come siete lenti nell'aggiornamento ecco la seconda la juve gioca in casa la prima la juve gioca in casa la prima la juve gioca in casa la prima con il real madrid perfetto allora a questo punto era perfettamente inutile che io stavo qua ha detto quello per radio quindi chi se ne fotte a questo punto no vabbè abbiamo fatto una vacanza ripiro l'aereo e me ne torno signori arrivederci ciao va a mangiarmi niente ci è rimasto male ci è rimasto male vabbè allora abbiamo detto che abbiamo detto Barcellona Bayern Monaco Juventus alla Madrid eh vinca il migliore migliore arrivederci ciao